In questo video vediamo come manipolare equazioni o formule per ricavare le inverse o eventualmente risolverle. Vedo che è un problema comune, per esempio mia figlia spesso mi chiede mi fai l'inversa di questa formula? Saper questi piccoli trucchetti vi serve per risparmiare memoria in modo che uno si ricorda una sola formula e poi può ogni volta ricavare tutte le altre. Quando studiavo le inverse me le ricavavo tutte appunto perché non avendo una gran memoria da giovane mi imparavo una formula e poi ogni volta mi facevo tutto il ragionamento. È vero ci vuole un po' più di tempo però questo vi permette di non dovervi ricordare i centomila formule basta che vi dimentichiate un passaggino, una letterina e siete fregati. E d'altra parte ricostruire tutto il ragionamento vi aiuta anche a capire meglio. Vediamo qualche esempio insieme, iniziamo subito. I movimenti da ricordarsi, li chiamo movimenti, quando si maneggiano formule matematiche non sono poi tanti. Ho segnato alcuni piccoli esempi, iniziamo con una cosa facile facile. Mettiamo, non so, 3x uguale 1. Come vedete la x non è pulita, ma davanti c'è questo 3 che dà fastidio. Se io volessi avere questa formula, questa espressione nella forma pulita vuol dire che voglio vedere x uguale. A cosa succede qua? A qui vediamo che abbiamo questo 3 che moltiplica la x. Come faccio per farlo sparire da qua? Allora, se qui moltiplica, la regola è che quando passo l'uguale dall'altra parte divide. In teoria dovrei fare, per essere pedante, una divisione. Quindi fare 3x, divido qui e divido anche qua. Questi si semplificano. L'effetto è avere il 3 da questa parte. Oppure, in modo un pochino più rapido, dico se il 3 è da questa parte, ve lo faccio tratteggiato. Quindi questo 3, quando passa dall'altra parte, se qui moltiplica, quando va di qua, va sotto e divide. Cioè finisce sotto la frazione. Quindi aggiungo un segno di frazione e mettiamo il 3 qui. Quindi questo qui è uno dei movimenti. Altro movimento è il passaggio di segno. Se, caso tipico, abbiamo x-1 uguale 0. Voglio anche qui trovare x uguale. Che cosa devo fare? Ho questo meno 1 che mi dà fastidio perché è sulla parte di sinistra. Per farlo passare di là, dovrei, secondo la regola, come dire, pedante, dovrei fare x-1, sommo più 1 da una parte e più 1 dall'altra. Cioè metto, è come se fosse una bilancia, no? Quindi se sommo più 1 a destra, devo sommare più 1 anche a sinistra. Questo più 1 che aggiungo ve lo faccio magari in verde, così si vede meglio. Ovviamente qui avendo 0 dovrei scrivere 0 più 1 in verde. Qui abbiamo più 1 o meno 1, questi qua si semplificano, quindi vanno via, e mi resta x uguale 1. L'altro sistema rapido è quello, ve lo faccio qui sopra, qui ho x tratteggio il meno 1 perché lo facciamo sparire. Quindi meno 1 uguale, di cui aspetto a scriverlo 0, questo meno 1, qui diciamo, è in compagnia della x con un segno di più o meno. Quando salta la staccionata, va dall'altra parte dell'uguale, cambia segno, quindi diventa più 1. E quindi ecco che abbiamo x uguale 1. Vediamo un altro esempio ancora in cui abbiamo tutti e due questi acciacchi, chiamiamoli così. Quindi 2x meno 4 uguale 0. Voglio la x pulita. Che cosa inizio a fare? Iniziamo a spostare, per esempio, il meno 4. Il meno 4 è di qui, lo porto al di là dell'uguale, quindi il meno diventa più e quindi avremo 4. Ora ho il 2 che mi dà fastidio, lo faccio andare via da qua, qui moltiplica, se salta l'uguale, salta la staccionata, di qua divide e quindi finisce sotto il fratto. Quindi avremo x uguale 4 fratto 2. Qui sono due numeri pari, quindi posso semplificarli. Divido per due tutte e due e quindi avremo 2, e cioè x uguale 2. Vediamo un altro esempio, questa volta con x fratto 5. x fratto 5 più 15 uguale 0. Per liberare dagli acciacchi la x, cosa facciamo? Il meno 15 lo butto al di là, qui c'è più, se salta l'uguale, di là al meno. Quindi avremo x fratto 5 uguale meno 15. Qui abbiamo il 5, questa volta divide la x, quindi se qui divide, quando salta dall'altra parte deve moltiplicare. E quindi avremo x uguale, ho meno 15, qui metto per 5, quindi sono insieme questi due. Ok, dovete fare 15 per 5, il risultato è il valore della x. Vediamo un esempio più complicato. Ho 3y, qui abbiamo due incogniti, più 4x meno 10 uguale 0. Ho sia la x che la y, è una retta. Solitamente le rette hanno questa formula, y uguale mx più q. Quindi è la formula, diciamo, normale, però come vedete qua non è in questa forma. Come faccio a riportarla in questa modalità? Allora, dobbiamo fare un po' di operazioni, un po' di spostamenti. Iniziamo a tenere 3y da questa parte. Abbiamo il più 4x e il meno 10. Se li porto al di là dell'uguale cambiano segno. Quindi abbiamo uguale meno 4x più 10. Quindi più diventa meno e il meno diventa più. Ora abbiamo il 3 che sporca la y per pulire. Se qui moltiplica, di là divide. Quindi avremo y uguale. Però attenzione, divide tutti e due. Conviene far così. Meno 4 fratto 3 per x più, qui abbiamo 10 fratto 3. Ecco che possiamo riconoscere quindi la m e la q. Se volessi scriverle qui di fianco, avremo m uguale meno 4 terzi, è l'inclinazione della retta. E poi abbiamo la q uguale 10 terzi, che è il punto in cui taglia uno degli assi. Andiamo a vedere con le formule fisiche. Ad esempio, f uguale a m per a. La forza data dalla massa per l'accelerazione. Se mi dicono ricava la massa. Quindi m uguale. Allora, la massa è sulla destra. Io lo voglio avere intanto sulla sinistra. Allora cosa faccio? Giro tutto. È come se fosse su un piatto girevole. Il perno è qua. Quindi faccio ruotare e scrivere m per a uguale a f. Esattamente la stessa cosa. Noi vogliamo tenerci la m. La m è sporca con la a, qui la a moltiplica, se la mando di là divide. Quindi avremo m uguale a f fratto a. E questa è una. Vogliamo ricavare l'accelerazione. A uguale, la a è sulla destra, la voglio sulla sinistra. Faccio ruotare. Quindi abbiamo m per a uguale a f. La a è sporca con la m. Quindi questa m, per portarla via, se qui moltiplica, quando la porto di là, dividerà. Allora, qui va via, va da questa parte. E avremo a uguale a f fratto m messo qui sotto. E quindi abbiamo trovato le due formule, una e due, le due inverse. Vediamo un altro caso che fondamentalmente è simile, solo fa un po' più paura perché ci sono termini un po' più brutti. L'abbiamo visto sui video dell'elettronica teorica. f uguale q fratto 4 pi greco epsilon per d al quadrato. Vedete, ci sono delle brutte, brutti simboli, pi greco, epsilon, la permeabilità, eccetera, il valore della carica, f, eccetera. Un po' più difficile. Se volessi trovare d, cosa posso fare? d è a destra e sotto. Allora, intanto qui è sotto. Cosa succede? Che se lo voglio portare a sinistra, visto che qui divide, se salta la staccionata, salta il nostro uguale, di là moltiplica. Quindi posso fare f che moltiplica. Non è necessario che prendo tutto, io voglio spostare solo la d. Ok? Quindi questa d, visto che moltiplica gli altri termini, la posso portare qui sopra. E quindi avremo f per d al quadrato uguale. Qui mi resta la q fratto 4 pi greco ed epsilon. Ok. Ora abbiamo la f. La f qui moltiplica. Se la porto a destra, andrà a dividere. Lo scrivo qui sotto. d2 uguale q fratto 4 pi greco e epsilon per la f che finisce sotto. Abbiamo l'ultima difficoltà, questo quadrato. Il quadrato, per toglierlo, si usa la radice quadrata. Quindi dovremo applicare la radice quadrata sia a destra che a sinistra. Fare d al quadrato sotto radice quadrata. Mi tiro fuori d. Quindi devo applicare la radice quadrata sia a destra che a sinistra. Sulla parte di sinistra troveremo il d pulito e quindi avremo d uguale, da questa parte ho la radice quadrata, dq fratto 4 pi greco e epsilon per f. Ok. Abbiamo ricavato la nostra formula inversa. Bene. Come avete visto, non abbiamo affrontato esempi molto complicati, semplici, però alla fine le formule che incontriamo sono di questa complessità. Quindi non sono gli esercizi che vi danno il professore a scuola dove avete delle equazioni lunghissime. Per la sopravvivenza queste regole sono più che sufficienti. Bene, spero sia stato interessante e utile. Vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo presto. Ciao!